Ben trovati al TG Porco, non ci vediamo da qualche settimana, speriamo che abbiate il trascorso delle buone vacanze e una nuova bufera di critiche travolge i 5 stelle dopo la conferenza stampa di Virginia Raggi, ma nonostante le critiche unanime di stampa e televisione i 5 stelle non calano drammaticamente nei sondaggi e questo perché gli italiani non si fidano di quello che dice la stampa e la televisione è sfiducia del resto reciproca, nemmeno noi della stampa e della televisione ci fidiamo degli italiani, nemmeno un po', ma sentiamo cosa ha detto Virginia Raggi in un video realizzato su Facebook subito dopo la conferenza stampa di ieri. Alla conferenza stampa è stato detto un no forte e chiaro alle Olimpiadi a Roma, ma è un no che ho detto da cittadina romana. Io vorrei fare alcune precisazioni perché in questi giorni sui 5 stelle sono state dette tante falsità, sono addirittura arrivati a sostenere che io sarei stata eletta sindaco di Roma, cioè la follia. È vero che io ricordo perfettamente di aver fatto un provino con Gianroberto Casaleggio e ricordo anche di aver imparato delle cose a memoria da dire in televisione, però poi non ricordo più nulla, sono io che mi sono dimenticata o forse qualcuno si è dimenticato di dirmi qualcosa? Perché io mi sono ritrovata con questa fascia tricolore e da quel momento ogni due secondi mi chiedono chi fa l'assessore di qua, chi fa l'assessore di là. Mi state facendo venire l'ansia, ve lo devo dire. La prima cosa che ho fatto naturalmente è stata quella di cercare di mettermi in contatto con Gianroberto Casaleggio. Mi è stato risposto non è più tra noi. Dico ma che stiamo su scherzi a parte. Cosa dovrei fare facendo parte del Movimento 5 Stelle che non ha una classe dirigente perché noi pensiamo che la politica debba essere fatta dai cittadini per i cittadini e che non debba mai diventare un mestiere. Allora quando ti serve un assessore che devi fare devi chiederlo a qualcuno che fa politica di mestiere altrimenti è una caciara come si dice a Roma. Inevitabilmente quelli che fanno politica di mestiere sono o dei mercenari o sono indagati, per esempio la Muraro. Ecco vogliamo fare un esempio concreto. Se l'arrestano, cosa che è abbastanza probabile, tutto questo girotondo mediatico, faccio me lo ribecco io un'altra volta, sempre con la scusa che ho preso il 67% dei voti. Dovete riconoscerlo con onestà. Poteva capitare a chiunque di voi di essere eletto sindaco di Roma. Allora io per chiarezza, per trasparenza voglio dire che stiamo cercando gli assessori ma non è vero che stiamo leggendo i curricula. Noi stiamo cercando di metterci in contatto con Gian Roberto Casaleggio attraverso delle sedute spiritiche per capire che cosa aveva in mente. Allora siccome io ricordo perfettamente cosa ho detto durante la campagna elettorale, ho detto che avrei governato insieme ai romani, quindi se volessi mettermi di traverso potrei essere io a lamentarmi, a dire cosa hanno fatto i romani fino ad oggi. Non c'è nemmeno la giunta, gli autobus continuano a non funzionare. Però io non mi metto a fare questi giochini perché sarebbe troppo facile. Voglio ricordarmi che siamo tutti dalla stessa parte, che i vostri dubbi sono i miei stessi dubbi. Chi è questa Virginia Raggi? È una sveglia? È completamente deficiente? E soprattutto come le è venuto in mente di fare il sindaco di Roma? Me lo chiedo anch'io chi è questa Virginia Raggi? Sarà come gli altri? Sarà un'altra specie di marino? Rubberà anche lei? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Lo scopriremo insieme e sono ancora convinta che potrà essere una bellissima avventura. Legge di stabilità fanno ancora discutere i provvedimenti sulle pensioni, in particolare l'ape l'anticipo pensionistico che permetterà a tutti di andare in pensione in anticipo nonostante la legge Fornero con un prestito previdenziale da restituire in tre anni garantito e senza rischi e un medicinale leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. E siamo arrivati finalmente all'attesissimo momento di Indovina la notizia dove gli spettatori attraverso Twitter potranno cercare di indovinare qual era la notizia che avrei dovuto dare se avessi voluto darla. E il primo tweet che arriva è quello di Terremotata dentro che scrive ladri. Mi dispiace terremotata dentro ladri è una risposta che andrebbe bene per tutte le domande e questo è un gioco di giornalismo dobbiamo cercare di essere più specifici ma ecco che indovina. Un rutto vi sepelirà 39 che scrive la notizia è che per andare in pensione a 63 anni devi lasciare il 25 per cento della tua pensione allo Stato. Nemmeno l'andrangheta fa dei tassi di interesse così alti è la prima volta che lo Stato pratica l'usura su così larga scala. Bravissimo e continua. La finanziaria è piena di bonus per convincere gli italiani a votare sì al referendum ma continuare a regalare soldi senza investire ci farà sprofondare ancora di più nella M. Puntini. Puntini. Bravissimo. Un rutto vi sepelirà. Usura è esattamente la parola che avremmo dovuto usare per farvi capire cosa sta accadendo e hai ragione anche sui bonus. Aggiungo solo da giornalista una cosa che tu non potevi sapere. Renzi è stato tenuto a distanza dalla Merkel a Bratislava e non è lui che ha fatto la voce grossa come vi abbiamo raccontato nei telegiornali ma questo probabilmente l'avevate intuito da soli. Forse però non sapete che la Merkel sta anche lei pensando di innalzare un muro ma non per gli immigrati ma per Renzi perché non ne può più di questo fiorentino che viene lì a battere cassa tutte le volte che ci sono le elezioni tanto più che l'ultima volta si è fatto dare 3 miliardi per le amministrative che poi ha anche perso anche la Merkel ha fatto notare giustamente che anche lei ha perso le amministrative spendendo molto meno. Questi tedeschi ci sanno fare con i risparmi. Ma oggi è il giorno del Fertility Day, i grandi festeggiamenti in tutto il paese ma anche qualche polemica. Giorgia Meloni infatti si dissocia. No, io non è che mi dissocio, mi limito a osservare che noi di Fratelli d'Italia insomma siamo un pezzo avanti perché noi figli facciamo senza bisogno che ciò dice la Lorenzini io per esempio ho partorito qualche giorno fa, non è un mistero per nessuno e credo che sia un dato incontrovertibile insomma di cui spero la Lorenzini voglia tenere conto. Infatti onorevole Meloni si è molto parlato della nascita di questa sua bambina? Beh vorrei vedere insomma non credo che capi tutti i giorni che un leader politico partorisca un drago come è successo a me, un drago esattamente come Calissi in Game of Thrones io poi mi dicono, gli ha rissomiglio pure insomma c'è gli occhi azzurri, i capelli biondi per carità ma me lo dicono tutti qualcosa di vero ci sarà. È stata una sorpresa incredibile insomma avere sta bambina drago che poi insomma la bottrina ha fatto palle così dice chiamala draga perché è una bambina femmina d'accordo la chiamiamo draga d'accordo anche se io l'ho richiamata pure drago è la verità nel senso che a vederla così la differenza non è tanta almeno poi magari quando cresce non lo so. Comunque mi sembra un segno evidente su chi debba essere il leader centrodestra insomma. Cioè le dice un chiaro segno di predestinazione? No io ho fatto il cesario, dico semplicemente che nel momento in cui ti ritrovi una figlia draga le possibilità di applicazione voglio dire sono tante, la puoi utilizzare non so per bruciare i barconi con i migranti ancora prima che arrivino sulle coste italiane come puoi utilizzarla per esempio per nuove forme di energia rinnovabile come per esempio potresti abbinare due cose cioè utilizzare come forma rinnovabile i barconi bruciati con i migranti le possibilità sono veramente tante e bisogna naturalmente pensarci per capire come utilizzarla al meglio però voglio soltanto dire arrendiamoci pure all'evidenza nel senso che ci abbiamo Giorgia Le Pen che sta per vincere le elezioni in Francia, ci abbiamo Giorgia May che sta governando e bene in Inghilterra, in Germania ci abbiamo Giorgia Merkel, negli Stati Uniti Clinton gli ha preso un coccolone e Giorgia Trump è ritornata in auge, in Italia chi è che si chiama Giorgia? e c'è pure una fila draga? Io credo che insomma ci sia poco da dire su chi possa essere il leader del centro-destra, comunque sono convinta che nel momento in cui pubblicheremo le foto della bambina insomma si arrenderanno tutti all'evidenza e le pubblicheremo naturalmente molto presto e tempo di photoshoparle No niente, la bubetta ha fatto un rutino, poi ci ha sabito insomma Grazie Giorgia Meloni e auguri a tutte le draghe, volevo dire a tutte le mamme del mondo scusate e concludiamo l'edizione di questo telegiornale con una curiosità, l'Italia è in guerra Sì avete capito bene, proprio la guerra, boom, boom, bam, la vecchia guerra presto a TG Porco potrete vedere uno speciale su come si sono evolute le guerre dalla guerra punica all'Afghanistan e per questa edizione è tutto Arrivederci, alla prossima Grazie a tutti